GF VIP, Ignazio Moser temeva Belen Rodriguez, ora sogna una famiglia con Cecilia Winsuiden Ignazio Moser ha rilasciato importanti dichiarazioni al settimanale diretto da Alfonso Signorini Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Cancelletto Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5, che ha appena visto Serena Grandi essere coinvolta in una brutta vicenda giudiziaria, video. Le ultime novità ci svelano che Ignazio Moser intervistato dal settimanale Chi ha parlato del primo incontro con Cancelletto Belen Rodriguez di progetti futuri con Cecilia Rodriguez? News GF VIP, Ignazio Moser intervista esclusiva a Chi. Le novità sulla seconda edizione del Grande Fratello VIP svelano che si è elevato un grande polverone mediatico su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo la loro uscita dalla casa di Cinecittà. Comunque i ragazzi hanno dimostrato di non dare a dito alle critiche, tanto da vivere il loro amore alla luce del sole. Un amore che sta procedendo a velocità della luce, visto che hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Se Cecilia è stata vista a Trento mangiare al ristorante con tutti i componenti del clan Moser, l'ex ciclista è stato ospite in varie trasmissioni dove ha detto di essere innamorato follemente dell'affascinante Argentina. A proposito il giovane e Cecilia sono intervenuti nel salotto televisivo di Federica Panicucci, video, dove quest'ultima è apparsa più dubbiosa per il prosiego della loro storia d'amore. Ignazio pensa in grande, sogno una famiglia con Cecilia. Dalle novità sui protagonisti dell'ultima edizione del GFVIP, scopriamo che Ignazio Moser ha rilasciato un'intervista esclusiva al magazzine diretto da Alfonso Signorini, reso protagonista di una querelle con Barbara. Dalle ultime novità si evince che l'ex ciclista ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato senza fiato tutti i lettori. Il giovane ha confessato di aver avuto paura di Belen Rodriguez, in quanto era definita una ragazza tosta, invece è stata gentilissima. In quell'occasione ha anche conosciuto il campione di motociclismo Andrea Iannone, con il quale scambia già messaggi con lo smartphone. Inoltre ha raccontato che suo padre ha inviato Ceco a Chiare, mentre quest'ultima gli ha parlato della lontana Argentina. Poi si è sbilanciato parlando dei prossimi progetti per il futuro, tanto da pensare già a formare una famiglia con Cecilia, in quanto un ragazzo di sani principi. Infine sua madre è rimasta favorevolmente colpita da Cecilia, mentre vorrebbe approdare nel mondo della televisione, magari come cronista sportivo. Se volete scoprire tutti gli aggiornamenti sui protagonisti del GFVIP, vi basterà cliccare Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore.